Qual è la squadra di Sassuolo? Il portiere deve fare esordire, tante belle storie, quindi oggi sono l'uomo più felice del mondo perché mi aspettavo, speravo un finale del genere. In una squadra ci vogliono i giovani perché sono freschi, sono delle spugne, imparano in fretta, ti seguono fino alla morte e quindi in ogni squadra ci vuole il giusto mix tra giocatori di una certa esperienza ma anche tanti giovani che nei momenti anche di difficoltà con la loro esuberanza, con il loro entusiasmo, con la loro freschezza atletica ti possono dare una grande mano e oggi credo l'abbiano dimostrato. Hanno avuto due infortuni e quindi hanno accentuato ancora di più l'emergenza e quindi ancora la dimostrazione del capolavoro che hanno fatto oggi i ragazzi. È stata un'emozione indescrivibile per me poter giocare questa partita, per i valori che aveva l'ultima in questo grande stadio contro la mia ex squadra e i miei ex compagni. Sono contento per come è andata e non c'è niente da dire, faccio i complimenti a tutta la squadra che mi ha aiutato anche tutta la stagione, mi hanno martellato però mi hanno aiutato a crescere e per questo gliene sarò sempre grato. Comunque noi e i nostri esordi siamo emozionati e io penso di esserlo stato tanto però mi ha aiutato, mi ha aiutato, sono rimasto concentrato tutta la partita, ho pensato a quello che dovevo fare. Quando è finita è stata per me una liberazione, una grande emozione. Io sono venuto qua con il pensiero di dover migliorare, di dover dare il massimo per ripartire, appunto andare via dal Milan per me non è stato un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Ho trovato come stimolo a dare il meglio di me stesso e tutto l'anno io speravo in un esordio e sono contento di esserci riuscito. Ringrazio tutti, ringrazio la mia famiglia, i miei amici da casa che mi hanno seguito, ringrazio chiunque in questi anni mi ha aiutato a crescere ma anche coloro che non hanno creduto in me perché mi hanno dato motivazioni in più per lavorare, lavorare e dare sempre il massimo e quindi io ringrazio tutti, dal primo all'ultimo. Le favole belle hanno sempre un lieto fine, diciamo che il mio gol è stata la chiusura di un cerchio, poi farlo nell'ultima partita a Sant'Elia, finire nel cartellone dei marcatori è normale che questa cosa mi onora e mi rendo orgoglioso di quanto è successo. Evidentemente ho lavorato talmente tanto che alla fine penso me lo sia meritato una giornata così. Col lavoro ho combattuto per giocare in Serie A e col sacrificio mi sono ritagliato un posto da titolare. È normale che ho dovuto faticare il triplo perché ad ogni minimo errore potevo essere messo in discussione, però quella è stata la mia forza, vado avanti e comunque sia ho dato sempre tutto a me stesso. Il mio ruolo è quello, nasco centrale, è normale che penso che anche un bambino che adesso sta iniziando a guardare calcio si accorge che in quella posizione sono più autorevole, più disinvolto e rendo di più. Però anche da terzino ho dimostrato che con il sacrificio si possono sopperire ai limiti. È normale che se uno si aspetta che potessi crossare 20 volte è sbagliato. Se si aspetta che ci metta il cuore fino all'ultima goccia sudore per la maglia, Pisacane può farlo.